Bentornati cari ragazzi di EvoSmart.it in nostra compagnia, insomma avete capito no? Il setup è cambiato e come sempre show must go on. Allora l'ultimo video riguardante a un po' i trucchetti di Xiaomi vi è stra-piaciuto, abbiamo raggiunto le 30.000 visualizzazioni, quindi un video che veramente ha fatto scalpore e questo mi fa piacere visto che vi ho insegnato un piccolo trucchetto che anzi a mia volta mi è stato insegnato anche a me da uno di voi utenti e quindi vi stra-ringrazio. Continuando quella serie mi è venuto in mente di farvi vedere qualche piccola modifica a livello grafico sul mio dispositivo targato Xiaomi, in questo caso vedete il mio Mi Note 10 che oramai sto usando per eventuali test, nonché per questa rubrica che portiamo avanti qua su YouTube. Ma mi raccomando ragazzi è fondamentale schiacciare il tasto like qua sotto per ulteriori video anche perché questa vuole essere una serie, non vuole essere un video ogni tanto ma vuole essere qualcosa di bello programmato che andremo a sviluppare nelle prossime settimane visto che il tempo oramai non ci manca assolutamente. Allora questo è un video a step perché stiamo parlando dell'applicazione che trovate in tutti i vostri smartphone Xiaomi e quindi è un'applicazione accessibile a tutti, però si va per gradi. In questo video vi dirò solamente alcuni temi che sono installabili direttamente dall'applicazione però se poi iniziate un po' a customizzare, iniziate un po' a guardare nell'applicazione stessa capirete che alcuni temi sono compatibili di default quindi basta schiacciare il tasto download e automaticamente vi verrà inserito il tema nel vostro smartphone vi basterà premere sul bottone applica e ve lo ritroverete già bello applicato. Però ci sono alcuni temi invece che non sono compatibili questo perché solamente nelle rom customizzate vanno bene questi temi e quindi cosa succede? Che sono applicabili ma serve un tutorial aggiuntivo quindi se volete vedere il tutorial mi raccomando like qua sotto e un commentino così capirò di fare un ulteriore video. Terzo step, questo per i più smanettoni, si scarica un file all'interno del nostro smartphone si scarica un'applicazione dedicata ai temi dal Play Store e si va ad installare tutto questo ne ho parlato ieri sera nella live Twitch magari vi lascerò qua sotto il link al canale Twitch ogni giorno alle 21 si fa una bella diretta insieme e come vedete vi faccio anche tutorial live. Penso di aver fatto la intro più lunga del mondo e quindi andiamo subito a vedere questi nuovi temi. Il primo tema che vi vado a consigliare si chiama Android 10 Dark è un tema che richiama ovviamente lo stile di Android 10 ed è un tema dedicato soprattutto alla modalità Dark i display AMOLED che oramai abbiamo in tanti smartphone andrà sicuramente a ringraziare questa modalità visto che consuma ovviamente meno batteria è un tema puramente stock c'è un richiamo come vi ho detto prima ad Android 10 e soprattutto possiamo anche andare a customizzare la nostra lock screen con dei widget particolari che si trovano all'interno delle impostazioni proprio del tema come avete visto è gratis lo scaricate, lo applicate non vi viene richiesta nessuna funzionalità in più e potete godere di questo tema. Il secondo tema invece è tutto il contrario si chiama Nature ed è un tema dedicato appunto alla natura con colori molto chiari e con una spiccata tendenza al verde è un tema che mi piace tantissimo in particolar modo perché va un po' in contrapposizione ai molti temi Dark che oramai si trovano su tutti gli smartphone anche questo è gratuito si installa, si inserisce icone molto carine e anche il widget orologio che a me piace moltissimo sulla MIUI in versione 11 come potete vedere non mi ha cambiato ad esempio i toggle rapidi questo succede perché non c'è la compatibilità piena con le varie versioni della MIUI GTR invece è un tema sempre scuro ma fighissimo fighissimo perché cambiano le icone molto carine secondo me e in più abbiamo questo effetto pioggia sullo sfondo di base che dà un tocco di classe in più non mi ha drenato tanto la batteria sul mio Mi Note 10 ma ha una batteria veramente grande è questo smartphone ecco questo secondo me è uno dei temi più completi che potete trovare in maniera gratuita proprio all'interno dell'applicazione Temi che oramai di base troviamo anche nella regione Italia quindi non c'è più bisogno di cambiare la regione sul nostro smartphone Xiaomi e quindi GTR è un tema davvero molto interessante che vi consiglio in questo video One UI 2.0 Dark quindi se volete richiamare sul vostro smartphone Xiaomi l'interfaccia di Samsung lo potete fare con questo tema abbiamo le icone abbiamo comunque i toggle abbiamo tutto quello che è l'interfaccia nuova di Samsung riportata appunto su uno smartphone Xiaomi anche questo è uno dei temi più carini che ho trovato in queste settimane nell'immagine che state vedendo in questo momento capite quali sono i temi dello step successivo quindi temi che vanno installati in una determinata maniera e che vanno radicalmente a cambiare tutta l'estetica del telefono ovviamente non è un tutorial per tutti anche se è molto semplice quindi sta a voi decidere se continuare anche su quel lato oppure fermarsi su temi gratuiti che basta un clic e si installano nello smartphone io sarei più per l'altra versione perché ci si può veramente divertire e sbizzarrire con queste nuove app dedicate ai temi allora vi consiglio anche un'altra cosa se andate a cambiare regione potete mettere Svizzera potete mettere India potete mettere Cina quello che volete non succede niente all'interno del vostro smartphone poi la potete anche ricambiare cambiano i temi che sono all'interno dell'applicazione Temi e quindi ce ne sono veramente di tutte le categorie i temi che ho scelto io sono della regione Italia quindi non dovete cambiare niente proprio per non darvi fastidio ci sono tante persone che non vogliono cambiare regione hanno paura di perdere un qualcosa nel proprio smartphone ma non succede niente ci abbiamo fatto ragazzi prima puntata dedicata ai temi Xiaomi come sempre io vi ricordo di lasciare un commento qua sotto di condividere questo video e in particolar modo se non l'aveste ancora fatto di iscrivervi al nostro canale YouTube detto questo noi ci vediamo nei prossimi video grazie a tutti